Segui il podcast di Easy Pharma, la migliore farmacia online e scopri le cause, le patologie, le cure, i consigli medici dei nostri farmacisti. Buongiorno a tutti, non abbiamo ritrovati, sono sempre io, la dottoressa Giulia della Farmacia Lungo di Roma e oggi vi parlerò dei fermenti lattici, per cui rimanete con me. Allora, che cosa sono i fermenti lattici? I fermenti lattici, più comunemente noti come probiotici, sono degli organismi vivi, non patogeni che se assunti in adeguate quantità portano dei benefici al nostro organismo. Possono avere una derivazione batterica, come per esempio i bifidobatteri o i lattobacilli, oppure derivati da lieviti, come per esempio i saccaronici svoluati. Qual è il loro ruolo e quando in realtà bisogna ricorrere ai fermenti lattici? Prima di ogni altra cosa, il fermento lattico viene sempre suggerito dal medico di base, anche dal farmacista, in concomitanza di una terapia antibiotica, in quanto possono fornire un utile scudo affinché l'antibiotico non aggredisca la nostra cosa sacrofita, ricordandosi però di assumere il probiotico ad una distanza di almeno un paio d'ore dal farmaco, in quanto l'antibiotico, un po' come Pac-Man, andrebbe dunque a mangiare il fermento lattico appena assunto. Ma sono anche importanti infezioni che interessano il tratto urogenitale, in particolar modo la cistile, che è un'infezione ricorrente specialmente nelle donne e nel periodo estivo. In questo caso i lattobacilli acidofilus, che sono anche fondamentali per la digestione di questo zucchero che è il lattosio, svolgono un'utile difesa in caso appunto di questa condizione patologica. Ma i lattobacilli, così come gli altri fermenti lattici, possono essere anche assunti appunto in caso di problemi di digestione, che possono apportare quindi ad un eccessivo gonfiore nella zona addominale. Il vantaggio dei fermenti lattici, che al giorno d'oggi possono essere commercializzati sia in fiale sia in capsule, per cui possono accontentare anche i più pigri di voi. L'importante è sempre assumerli la mattina a stomaco vuoto. Per altri consigli mi raccomando continuate a consultare il sito www.esifarma.it e soprattutto se avete qualche domanda o qualche dubbio potete sempre scriverci nel link in bio tra i commenti. Oppure, meglio ancora, se volete potete trovarci a Roma in piazza Vittorio Emanuele II. Alla prossima!